Un'importante svolta segna la storia del Comune di Ragusa, in quanto il Consiglio Comunale ha deciso di non essere più socio del distretto turistico del sud-est e del distretto turistico degli Iblei. La decisione di recedere dal Consorzio è conseguente a una valutazione eseguita dall'amministrazione comunale, secondo cui i distretti turistici non possono più essere identificati come soggetti promotori del territorio. Fare parte di questi non è dunque una metodologia efficace per incidere in modo strategico e concreto sullo sviluppo dell'area Iblea. La Giunta Municipale ha così approvato la delibera per l'uscita del Comune Ragusano dal ruolo di socio del distretto in questione. Il provvedimento, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto del Distretto, è in attesa del risponso del civico consesso per la ratifica definitiva. Tuttavia, in questa delibera viene sancito che la data del recesso dal distretto turistico Ibleo sarà posticipata al termine della stipula del rendiconto delle attività che sono già in corso. Il sindaco Federico Piccitto e l'assessore comunale al turismo Stefano Martorana dichiarano che questa scelta è frutto di diverse valutazioni. In misura maggiore incide il fatto che la città, capoluogo della provincia, è attivamente impegnata nel nuovo percorso Città Tardo Barocche del Val di Noto, avviato dai comuni riconosciuti come siti patrimonio dell'UNESCO. Questo progetto coinvolge in toto le realtà che ne fanno parte e dunque gli enti locali sono impegnati in questa iniziativa che ormai sta divenendo operativa a tutti gli effetti.